Nuova terapia contro l'AIDS all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, una puntura ogni due mesi, sostituirà la pillola da assumere quotidianamente. Una svolta importante, da poco approvata a livello nazionale, ora disponibile nel nosocomio cittadino. Il reparto di malattie infettive, diretto dal dottor Alessandro Grimaldi, ha già iniziato con la nuova terapia. Si chiama Long Acting. La somministrazione ogni due mesi permette anche una riduzione significativa dei costi delle cure e tutta una serie di vantaggi. Non c'è un incremento di malati, ma bisogna prestare molta attenzione, spiega inoltre il dottor Grimaldi, per i giovanissimi. Attraverso questi farmaci Long Acting, cioè i cui effetti durano a lungo, si migliorerà in maniera importante la qualità della vita. Questo ha numerosi vantaggi. Innanzitutto il fatto che i pazienti vengono affrancati dall'obbligo di assumere farmaci per bocca tutti i giorni. Quindi immaginate un professionista che spesso va fuori per lavoro, potrà fare un'iniezione e poi rifarla dopo due mesi. Quindi il vantaggio è enorme. Ma non solo, questo favorisce anche una maggiore adesione alla terapia, perché può succedere qualche volta, come capita, che magari uno dimentica di assumere un giorno la cosiddetta pillola. E quindi magari saltando si rischia di favorire l'insorgenza anche di resistenza al virus. Quindi i vantaggi sono veramente tanti. C'è un aumento, dottore, di queste malattie? Un aumento no, però c'è una tendenza a un incremento, soprattutto nella popolazione dei giovanissimi. Quindi bisogna tenere un po' la guardia alta, perché probabilmente negli ultimi anni si sono ridotte anche le campagne contro l'EDS. L'EDS, vi ricordo che negli anni 80-90 faceva molto paura, perché veniva considerata di fatto una malattia mortale. Oggi magari non lo è più, tra virgolette, l'abbiamo un po' resa con questi nuovi farmaci una malattia cronica, ma in realtà rimane sempre una malattia pericolosa e tra i giovani forse non c'è sempre coscienza del fatto che bisogna avere rapporti sicuri, protetti e quindi bisogna stare molto attenti a non contrarre queste infezioni.